Quando pensiamo alla parola urto, ci vengono in mente immagini di automobili che si scontrano o di contrasti durante una partita di calcio, oppure ancora, possiamo pensare a quella volta che distrattamente abbiamo urtato un oggetto o un'altra persona. In situazioni come queste, due corpi entrano in contatto, collidono. In fisica, quando parliamo di urto, intendiamo proprio questa collisione tra corpi, che avviene in un intervallo di tempo breve, o meglio, in un intervallo di tempo trascurabile rispetto al tempo di osservazione del sistema. Durante il breve impatto, inoltre, si scatenano forze di interazione interne al sistema molto più intense rispetto alle forze esterne dovute, ad esempio, all'interazione con altri corpi. Potendo dunque trascurare la risultante delle forze esterne, diciamo che il sistema dei corpi che interagiscono si comporta come un sistema isolato, nel quale, perciò, la quantità di moto totale si conserva. Consideriamo adesso un caso semplice. L'urto che avviene tra due particelle di massa m1 e m2 che si muovono in una sola dimensione, vale a dire, su una retta. In questa situazione, indichiamo con v1 e v2 le velocità delle particelle prima dell'urto, e con v1 e v2 le velocità che le particelle raggiungono dopo l'urto. Poiché sappiamo che in un urto la quantità di moto totale si conserva, possiamo scrivere che la quantità di moto prima dell'urto è uguale alla quantità di moto dopo l'urto. La p iniziale, d'altra parte, vale la quantità di moto iniziale della particella 1 più la quantità di moto iniziale della particella 2, e cioè, ricordata la definizione di quantità di moto, questa somma qui. Stesso discorso si ripete per la p finale, che vale questa somma, e, in definitiva, questa quantità. Utilizzando questi risultati, perciò, la conservazione della quantità di moto si può riassumere tramite questa equazione. Continuando a parlare di urti su una retta, andiamo a trattare casi ancora più specifici, cominciando dagli urti elastici. In un urto elastico succede che, oltre alla quantità di moto, si conserva anche l'energia cinetica totale dei corpi che interagiscono. Ciò significa che, nel caso degli urti elastici, oltre a valere questa equazione che abbiamo riscritto in questa forma, si verifica anche che l'energia cinetica iniziale è uguale a quella finale. Una volta che ci siamo ricordati cosa si intende per energia cinetica, usando la stessa notazione di prima, è facile sviluppare anche questa equazione e riscriverla in questo modo. Per fare un esempio di urto elastico, consideriamo due carrelli, il primo con massa pari a un chilogrammo ed il secondo con massa di tre chilogrammi. Il carrello 1, che si muove in linea retta con una velocità di 4 metri al secondo, urta il carrello 2, che è inizialmente fermo. Sapendo che, dopo l'urto, il carrello 2 ha una velocità di 2 metri al secondo, vogliamo determinare la velocità raggiunta dal carrello 1 dopo l'urto. Poiché sappiamo che in un urto la quantità di moto iniziale è uguale alla quantità di moto finale, possiamo scrivere questa equazione per la conservazione della quantità di moto. Impostata l'equazione, possiamo esplicitare la velocità finale del carrello 1 isolando prima m1 pi grande 1 da una parte dell'uguale e poi dividendo per m1. Utilizzando questa formula, nella quale andiamo quindi a sostituire i dati, possiamo conoscere la velocità che raggiunge il carrello 1 dopo l'urto. Osserviamo che il segno meno è legato al fatto che la velocità del carrello 1 ha verso opposto rispetto al verso che abbiamo fissato come positivo all'inizio. Avendo supposto che l'urto fosse elastico, inoltre, possiamo controllare che questi dati confermino il fatto che l'energia cinetica si conservi. Per esserci conservazione dell'energia cinetica, d'altronde, deve valere questa equazione. Poiché sostituendo i valori ottenuti per tutte le grandezze coinvolte, si ottiene un'identità, possiamo affermare di aver verificato che l'energia cinetica si conservi durante quest'urto elastico. Consideriamo adesso una seconda tipologia di urti, i cosiddetti urti anelastici. Immaginiamo un urto come questo tra due automobili. Come puoi notare, si è avuta in questo caso una evidente deformazione delle carrozzerie. L'energia cinetica iniziale, infatti, si è trasformata stavolta in lavoro di deformazione delle lamiere e si è poi dissipata in calore. Proprio a causa di questa dissipazione, l'energia cinetica totale delle due auto dopo l'urto è minore rispetto a quella iniziale. Al contrario dell'urto elastico, dunque, nel caso degli urti anelastici come questo, l'energia cinetica totale non si conserva. Il caso peggiore, inoltre, in cui si ha la massima perdita di energia cinetica, si verifica quando i corpi rimangono uniti dopo l'urto. In quest'ultimo caso, si parla di urto completamente anelastico, con i due corpi coinvolti che, dopo l'urto, vanno a costituire un corpo con massa uguale alla somma delle due masse e uguale velocità finale V grande. Dette M1 e M2, le masse dei corpi coinvolti in un urto completamente anelastico, ed indicate con V1 e V2 le rispettive velocità iniziali, possiamo determinare la quantità di moto iniziale in questo modo. Quanto alla quantità di moto finale, abbiamo che questa è da riferirsi a quella sorta di agglomerato che si ottiene dopo la collisione e che ha massa M1 più M2 e velocità pari a V grande. L'API FIN vale dunque questa quantità. Valendo la conservazione della quantità di moto totale, possiamo uguagliare queste due quantità ed ottenere infine questa equazione. Per capire come poter applicare questa formula, consideriamo ad esempio due giocatori, un attaccante e un difensore, che entrano a contatto durante una partita di football americano. Note le masse e le velocità iniziali dei due giocatori, vogliamo determinare la velocità V grande comune ai due atleti subito dopo l'urto. Poiché i corpi rimangono attaccati, possiamo considerare l'urto come completamente anelastico e dunque, facendo riferimento alla formula vista prima, calcolare V grande come segue. Per risolvere il problema, basta quindi sostituire i dati forniti. Prima di concludere, è importante precisare che urti o collisioni, per come te ne ho parlato fino ad ora, riguardano anche interazioni che possono avvenire senza contatto, come ad esempio quelle tra nuclei di helio-4. Tali interazioni, infatti, coinvolgono forze elettrostatiche relativamente intense, che agiscono in tempi brevi rispetto alla durata dell'osservazione delle particelle. Queste particolari interazioni, allora, possono essere trattate anch'esse come degli urti. Quando una sonda spaziale si avvicina ad un pianeta, può scatenarsi un aumento della velocità della sonda, noto anche come effetto fionda. L'interazione non avviene mediante contatto fisico con il pianeta, ma è legata al fatto che la sonda entra nel campo di influenza della forza gravitazionale del pianeta per un tempo che è molto breve rispetto alla durata del viaggio interplanetario. Anche stavolta, il tempo a nostra disposizione è terminato. Se questo contenuto ti è stato utile e vuoi sostenere il progetto, puoi condividere il video e lasciare like. Non dimenticare inoltre di iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i nuovi video che usciranno. Se ti va di contribuire a migliorare la qualità dei video futuri, puoi fare una donazione al link che trovi in descrizione. Per non perderti altre risorse, come i formulari che riassumono il contenuto dei video, seguimi sui profili Instagram e Facebook. Io sono Gianmarco e ti auguro buono studio!